ciao amici conoscete l'olio di neem è un olio vegetale estratto dai frutti e semi del neem una pianta indiana sempre verde oggi coltivata anche in altre regioni tropicali l'olio di neem è scuro e ha un forte aroma tra quello dell'arachide e dell'aglio non proprio gradevole allora c'è da turarsi il naso ma che olfatto sensibile ha un odore forte ma non sgradevole e tanti benefici è composto soprattutto da acidi grassi tra cui l'oleico che ha proprietà idratanti infatti applicato sulla pelle impedisce l'evaporazione dell'acqua cutanea ma quali sono i principali benefici dell'olio di neem vediamoli insieme se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video 1 idrata le pelli secche le sue proprietà emollienti sono l'ideale per le pelli secche va bene anche per i capelli secchi come impacco 20 minuti prima dello shampoo se usato per pelle e capelli è consigliabile diluirlo con una crema uno shampoo in un rapporto di 5 per cento olio di neem e 95 per cento di crema un shampoo 2 ripara le scottature l'olio è anti infiammatorio e ottimo in caso di scottature da esposizione solare basta applicarne un po' puro sulla zona scottata contro dolore e arrossamento 3 combatte acne psoriasi e zemi l'olio riduce i sintomi dell'acne e contribuisce a normalizzare il sebo basta applicarne poche gocce sul viso per vedere subito i primi risultati è curativo anche per la psoriasi e gli ezzemi togliendo l'infiammazione 4 rimedio contro le micosi il neem è un celebre rimedio naturale per le micosi di piedi e unghie basta applicarlo puro sulle unghie sulle zone colpite per due settimane 5 antiparassitario per il tuo amico a quattro zampe può essere usato come antiparassitario per gli animali da compagnia protegge naturalmente cani e gatti da pulci zecche e pidocchi senza chimica un'ultima raccomandazione a temperatura ambiente acquista consistenza cerosa per renderlo liquido basta metterlo a bagnomaria o diluirlo con un olio vegetale in una percentuale del 10 per cento neem e 90 per cento olio vegetale trovate tanti consigli di bellezza 100 per cento naturali nel mio libro manuale moderno di estetica olistica link in descrizione avete visto amici quanti benefici all'olio di neem per vedere tanti altri video sugli oli essenziali per la salute e la forma fisica è facile iscrivetevi al canale e attivate tutte le notifiche e scegliete le playlist dedicate per sostenere il mio progetto di divulgazione di salute naturale abbonatevi al canale la salute è importante anche per i vostri amici condividete questo video può essere utile vivi consapevole e vivi meglio